A te che sei venuto nel mio negozio di abbigliamento, a te che ti sei fidato dei miei consigli soltanto conoscendomi attraverso i social, a te che hai apprezzato e condiviso i miei post, i miei video e magari hai messo anche qualche cuoricino, per te un grande grazie, grazie da parte mia che sono Dania e grazie da tutto lo staff di Germani Moda, forse tu non lo sai, ma la somma di tutti questi piccoli gesti come il tuo a me ha aiutato ad affrontare quest'anno molto faticoso che oramai è giunto al termine, a te e a tutti buon Natale Mi raccomando, qualsiasi sogno avete, che sia personale o professionale, abbiate coraggio e combattete per esso Anche Walt Disney diceva, se puoi sognarlo, puoi farlo, tanti auguri a tutti